Buongiorno a tutti, sono Matteo Mandressi, segretario confederale della CGL di Como. Aderisco al comitato del NO, in questo caso la mia organizzazione, pur non aderendo ai comitati, ha una posizione molto critica rispetto alla riduzione dei parlamentari, ma anche rappresentando i tanti sindacalisti, i militari, i militari, i politici, i giuristi. Le ragioni che già state dette, io aggiungo una sola cosa, intanto che non c'è risparmio quando si risparmia sulla rappresentanza e sulla democrazia, quindi non possiamo ragionare in termini economici quando in gioco c'è il ruolo e la centralità del Parlamento. Questa riforma evidentemente riduce la possibilità di rappresentanza sociale e di conseguenza come sindacalista non posso che schierarmi convintamente per il NO a un referendum che purtroppo vede una stessa diffusione delle ragioni che stiamo parlando di giorni, che però è un referendum particolarmente importante, perché da dove si vincere si rischia di creare delle condizioni che non sono più recuperabili. Questo è il messaggio che è importante che passi. Grazie.